Facciamo un appello, io mi permetto nel mio piccolo anche questo nuovo governo, che le sentenze sono fatte e che poi vengano rispettate perché la certezza della pena sta anche nella effettività della pena, nel senso possono essere 30, possono essere 15 anni, in questo caso 14, mi pare di ricordare che siano quelli che sono previsti. E' l'appello che l'attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale Treviso, Barbisan, rivolge al governo e ancora più direttamente al ministro della giustizia Carlo Nordio, dopo la sentenza, ieri in aula bunker a mese della Corte d'Appello nel processo ad Antonio Sorroce, per l'attentato al K3 di Villorba, sede del carroccio trevigiano, nell'agosto 2018, per l'anarchico spagnolo la condanna a 14 anni e 10 mesi, pena dimezzata rispetto al processo di primo grado. Come ha spiegato l'avvocato di parte civile Stefano Trubian, il tribunale ha riconosciuto il fine terroristico dell'azione, ma non la volontà di uccidere. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza, una vicenda giudiziaria che in casa Lega riporta alla memoria quella drammatica giornata. Che quello potesse diventare un luogo nel quale ci potesse essere un pericolo addirittura per la vita di qualcuno, questo ci ha lasciato veramente sconvolti perché per noi è un po' una casa, ecco il K3. Quel giorno, al momento dell'attentato al K3, erano presenti Mauro Michelon, Giuseppe Canova, Pierpaolo Floriane e Alessandro Manera. Questo secondo me non cambia peraltro la gravità del gesto stesso e anche del rischio che abbiamo accorso allora. Ritengo che questo ragazzo peraltro, non essendosi dissociato, anzi avendone rivendicato una paternità politica durante il dibattimento, forse avrà modo in questi anni anche di capire la gravità del gesto che ha fatto e speriamo che nessuno ripeta fatti simili. Grazie.